Arrestato l'autore della tentata rapina avvenuta giovedì mattina all'incrocio tra via Trento e via Monte San Michele a Mestre. A chiamare la polizia verso le 7.30 l'uomo ha aggredito mentre si trovava in auto parcheggiata a bordo strada. Uno sconosciuto si sarebbe avvicinato chiedendogli dei soldi. Poi attraverso il finestrino aperto gli ha puntato contro il coltello minacciandolo. L'uomo però è riuscito a chiudere il finestrino e a chiamare il 113 nel frattempo in attesa dell'arrivo degli agenti che giunti sul posto hanno trovato il rapinatore ancora lì che cercava con violenza di entrare nell'auto. È stato bloccato e identificato, si tratta di un bengalese di 37 anni, aveva un coltello con una lama di 14 centimetri e dell'ascis. Accompagnato negli uffici della questura per gli accertamenti è risultato irregolare col permesso di soggiorno e quindi oltre all'arresto per rapina è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e in adempienza l'ordine di espulsione del questore. Ora è in carcere in attesa di giudizio. Ora è in carcere in attesa di giudizio. Grazie a tutti.